bentornati ad una nuova puntata di talking with friends si però sono con franzo solo adesso vado a raccontarvi chi è diciamo che l'argomento della giornata è le competizioni sapete che un altro argomento che a noi ci piace tanto la competizione di cui vado a parlarvi oggi è una novità una beginner competition diciamo che già questa cosa mi piace tantissimo perché tutti ci possiamo mettere alla prova vado a dare due tre informazioni importanti la finale parliamo già della fine la finale si terrà il 6 aprile alla malpensa fiere quindi siamo a milano ragazzi siamo in lombardia e sto parlando di milano true down come gabriele zampetti l'event manager ciao gabriele ciao cari ciao benvenuto diciamo che adesso il tuo volto comincia essere un po conosciuto sulla pagina ufficiale di milano true down esatto esatto senti l'event manager diciamo tutto che questa competizione ha un sapore internazionale perché chi la organizza faccio un nome di una competizione che insomma tutti conosciamo che è lowlands stiamo parlando di crossfit event quindi loro si occupano di parecchie competizioni internazionali soprattutto europei quindi ha deciso di organizzare milano true down quindi iniziamo bene gabriele esatto esatto sono un circuito di varie competizioni in tutta europa e proprio in questo momento c'è la versione invernale di beach true down che stanno facendo praticamente è sulla sabbia all'interno di un palazzetto è fighissima se andate a cercarla sui social e quindi a milano appunto ci sarà milano true down come primo evento italiano di crossfit event fantastico ho esordito dicendo appunto che è una beginner competition giusto gabriele allora ha un occhio di riguardo per quello che è le persone che fanno la loro prima gara e proprio per questo ci sarà un placement workout e che deciderà il livello con cui le persone andranno a gareggiare ok questo placement workout adesso poi l'andiamo a dire nello specifico così chi ci ascolta va a capire di che cosa stiamo parlando diciamo subito che va caricato il video giusto gabriele è partito il 9 febbraio entro l'11 marzo per cui c'è ancora tempo c'è ancora un po di tempo sì tutto ciò andrà caricato ragazzi su competition corner esatto e adesso andiamo a parlare di questi placement workout diciamo che sono quattro livelli di difficoltà esatto sono quattro livelli di difficoltà si parte proprio dal beginner che quindi è adatto anche a chi è iniziato da pochissimo ad allenarsi al box vado a dirlo gabriele perché tu hai detto che vediamo com'è composto quindi questo level one di cui parlava gabriele sono due round di 18 box step up over quindi possiamo farcela 15 deadlift andata a guardare il peso dei deadlift e 12 barbies to target esatto quanto tempo abbiamo per fare questo perché ogni livello ha un tempo specifico esatto ognuno in base al se fai se fai l'individuale il il team a due ultima tre il tempo cambia ok ok quindi andare a vedere bene tutte le specifiche e ovviamente ci sarà un tempo sufficiente in modo che entro il time cap se riusci se riusciamo a concludere il primo step possiamo passare al successivo ma non c'è rest attenzione quindi faccio un esempio time cap cinque minuti finisco i due round in quattro minuti parto subito con il secondo livello che è un altro time cap ok vado a questo punto a leggervi ed è da cosa è composto il level due sono sempre due round di 12 box jump over quindi cominciamo a saltare 12 clean e 99 barbies pull up esatto anche qui come dici tu se riusciamo a terminare questi due round nel tempo non c'è resta si passa al level al terzo livello che vado a leggere è composta da 12 box jump over ancora 9 snatch quindi cominciamo a inserire qualcosa di stop nel tempo quindi può essere deve partire da terra e deve e può essere ricevuto o in power o muscle o in squat tanti mi ha fatto la domanda su questo quindi ci tengo a specificarlo e non è da hang come alcuni quindi dal floor e poi in ultimo abbiamo sei c'è c'è stu bar se riusciamo a completare anche questo terzo livello arriviamo al quarto ed ultimo che è composto sempre da due round di tre height jump over quindi il box alto 75 uomo 60 donne ok tre snatch anche qui any style immagino esatto e tre bar muscle up e qui siamo veramente arrivati a livello sicuramente più specifico insomma sì 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 quanto tempo abbiamo in totale per completare tutti i quattro livelli allora sono 18 minuti e 30 ok e quindi insomma tempo ne abbiamo però calcoliamo che non abbiamo abbiamo rest esatto diciamo che con il team e la coppia si si recupera un po di più perché è un round per componente quindi sicuramente un pochino di più ovviamente l'individuale è quello un pochino più impegnativo diciamo come detto tu prima che il livello poi della nostra categoria verrà deciso proprio entro quanto riusciamo a completare questi livelli se poi non riusciamo a completare il livello nel tech cap predefinito lì stop sarà esatto esatto dopo di che insomma aver terminato questo placement workout si accederà alla fase finale questo live che arriverà il sabato 6 aprile esatto sarà una giornata dove ci saranno appunto tre workout tre tipologie diverse di workout che ancora non vado a svelarmi per il momento però sono tre tipologie diverse e nel floor saranno tre workout in contemporanea quindi sarà diciamo un floor molto dinamico esatto esatto cosa possiamo aggiungere prima di adentrarci adesso nella nella fase finale sui placement workout domande che ti fanno magari gli atleti allora domande che fanno spesso sono sulla distanza della mano dal dal target e su queste cose qua diciamo che la regola di base è che vale tutto quello che vale per i crossfit open quindi normalmente nei crossfit open abbiamo 15 centimetri di distanza dalla mano alla sbarra ed è esattamente la stessa cosa quindi non c'è niente di particolare o niente di diverso quindi ci atteniamo sempre a quello che sono ehm diciamo gli standard degli open eh cosa dobbiamo usare ormai diciamo chi fa l'atleta sa che piattaforma dobbiamo utilizzare esatto la piattaforma wordprof e fare inquadratura eh secondo me orizzontale è meglio soprattutto se si è in team perché sistemare comunque i bilanceri le box e rimanere sempre tutti all'interno dell'inquadratura ehm è preferibile avere un'inquadratura più larga e bene questo coordinarsi bene tra i componenti del team se si è in due o in tre in modo da fare il miglior score possibile e poi io aggiungo io non utilizzate la musica ragazzi perché sennò mi viene bloccato il video esatto diciamo sono cose che dovrebbero sapere i nostri ragazzi però però è sempre meglio dirle diciamo che poi appunto è un po' orientato a beginner magari nelle fasi esatto esatto anche io ho alcuni che è la prima volta che che fanno una qualifica e ovviamente c'è da indirizzarli un po' in tutto ma è normale anzi a proposito faccio un po' di autopromozione proprio sul tema del eh dell'ansa da prestazione delle qualifiche proprio da messa the box ha fatto un articolo su questa tematica per cui ragazzi andate a leggerlo ripassate bene tutti i tutti i vari step che sono sicura che la qualifica andrà a buon fine voglio andarlo leggere anch'io perché tra poco ci sono anche gli open bravissimo poi facciamo una piccola devazione sul tema gabriele dimmi raccontami che tu sei è vero un fan di spotify di da messa the box assolutamente sì quando faccio dei viaggi vado in aereo io mi scarico prima qualche podcast e poi quando sto in aereo mi metto le cuffie e me li ascolto oh fantastico qualcuno che ci ascolta ragazzi sono contenta almeno la mia bolle le mie chiacchiere non sono in pane gabriele tratta di argomenti sempre molto interessanti quindi è bello sono contenta adesso gabriele ascolti auto ascolterà in questa nuova puntata allora adesso abbiamo fatto una piccola direzione parliamo appunto della finale come ci stavi accennando ci saranno tre workout in contemporanea per cui come dicevamo è una giornata abbastanza dinamica quindi anche lì sarà importante l'attenzione a studiarsi bene ovviamente ogni passaggio dei workout assolutamente sì comunque workout verranno detti con un pochino d'anticipo verranno comunque spiegati e anche sui social dall'head judge ok quindi arrivare diciamo preparati e saper bene come muoversi è come quando un po vai al box e sai già cosa c'è alla lavagna quello che ti aspetta e in modo da poter dare il meglio poi sul flora ovviamente la cosa che mi piace perché c'è noto tu non è soltanto individual ma puoi andare anche a team insomma se è proprio la prima volta bisogno di sostegno ci si aiuta parecchio questa esperienza team ma tu mi dicevi team composto da quante persone il team è composto allora c'è la buddy che è coppia uomo donna o altrimenti c'è il team a tre che può essere due uomini una donna o due donne e un uomo sia master e regular diciamo quindi insomma ce n'è per tutti ce n'è per tutti ci si può anche mixare atleta 18 35 con atleta master ok e si diventa master ok ma una forza giovane nel team non è mai male dire esatto e quindi è veramente diciamo il bello di questa gara che veramente inclusiva quindi non devo essere un per forza un competitor abituale ci sarà lo spazio anche per loro comunque nel rx perché comunque impegnativo e i carichi saranno adeguati all'rx ma diciamo che grande spazio viene dato anche a tutte quelle persone che si allenano normalmente anche tre volte a settimana nel box crossfit e vogliono divertirsi entrare in un campo gara in un palazzetto e sentire l'adrenalina del momento ma la cosa che trovo super interessante devo dirti gabriele è proprio il fatto di in base al tuo livello di fitness andare a competere con i tuoi stessi avversari quindi esatto perché spesso anche nelle categorie beginner vediamo dei carichi un pochino alti oppure vediamo nelle categorie beginner delle persone che non sono proprio tanto beginner la solita storia lo sappiamo la solita storia quindi non stiamo qua a diciamo girare il dito nella piaga ma diciamo che appunto le persone saranno proprio allo stesso livello proprio perché plasma workout li metterà tutti uno accanto all'altro ma senti tu lo so che non puoi ma qualche piccolo piccolo spoiler me lo puoi dare del per incuriosire i nostri allora ti do qualche piccolo spoiler allora a livello workout sai che io adoro gli spoiler quindi allora ti do carta bianca sicuramente sicuramente qualcosa cardio un workout un po più sul cardio ok e basta non dico di più un workout sicuramente più su work capacity con un po di più sbarra un bel kettlebell così ok un chipper ma non è detto non è detto però ti dico ti dico che sicuramente c'è c'è ginnastica dentro e c'è qualche peso quindi una cosa così e un altro workout sicuramente bilanciere bene allora c'è tutto ragazzi quindi è completo ragazzi io ci ho provato qualcosa ci ha detto però la cosina e le prossime settimane arriveranno più informazioni dai bene senti ma alla termine di questi questi tre workout quindi come avverranno le premiazioni cioè uno dovrà aspettare la fine della giornata allora allora sì perché tanto comunque sia saranno diciamo tre momenti in cui faranno i tre workout quindi l'ultimo workout si farà nella parte finale della giornata finita l'ultima it si farà subito il podio perché diciamo che sì ci sono tre workout in contemporanea ma praticamente l'atleta non inizierà dal primo poi successivamente farà il secondo e successivamente farà il terzo avrà del tempo di recupero chiaramente chiaramente sì 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 ok inizieremo tendenzialmente dalle otto e mezza ci sarà una pausa di mezz'ora sicuramente ehm tra un workout e l'altro ok quindi una pausa diciamo in tarda mattinata e una pausa diciamo nel pomeriggio più o meno verso le tre così e dove anche i judge prenderanno un attimo di respiro questi placement workout danno l'accesso a tutti la finale per cui non verrà nessuno quindi è garantita quindi io mi scrivo il 6 ci sono partecipo e quindi ci sarà veramente tanto movimento tante persone che faranno questa questa competizione assolutamente poi per ogni eh iscritto si possono portare due persone gratuitamente a vedere quindi anche questa cosa qua è buona il sostegno ci vuole esatto il coach o comunque i i tifosi è vero di non venire a vedere sarà la la prima sarà comunque diciamo una sorta di prova però secondo me come format eh sarà interessante anche nel futuro vedere come come si svilupperà beh io guarda non vedo l'ora di vedere cosa succederà perché possiamo direlo Gabriele diciamolo diciamolo e da Mesa The Box sarà a Milano Throwdown per appunto raccontare l'evento per sentire la viva voce dei dei ragazzi durante questa giornata con questa nuovo formato con questa nuova modalità quindi ragazzi insomma seguite Milano Throwdown e seguite da Mesa The Box perché insomma ne vedrete ne ascolterete delle belle esattamente esattamente vi aspettiamo bene Gabriele cosa possiamo dire a conclusione di questa nostra chiacchierata proprio di a suggellare questa nostro nostra chiacchierata allora secondo me eh tante persone eh che sono lì che si allenano da un po' di tempo eh hanno sempre quella cosa di dire no ma non sono in grado ehm un po' quella mania di perfezionismo finché non ho cento chili di snatch non mi scrivo no ragazzi buttatevi lanciatevi perché proprio quando sarete lì tirerete fuori quel qualcosa in più che poi sarete felici di aver portato a casa beh mi sembra veramente uno un suggerimento importante perché poi raccontiamo Gabriele che tu sei anche tu sei un coach per cui sei benissimo cosa si prova cose i tuoi ragazzi magari che che sono lì dubbiosi se fare o no qualche competizione magari te le senti dire spesso queste queste frate non sono pronte e poi dopo e poi dopo comunque sono sempre sono sempre andati via soddisfatti anche al di là della classifica che è relativa nel senso che poi io penso sempre che la la prima competizione è contro te stesso no quindi cercare quella versione migliore di te in quel momento prendere tutte le energie focalizzarle lì in quella giornata e è un po' una sfida contro te stesso alla fine al di là di come poi è la classifica finale e ti dà comunque anche un riferimento per poi tornare al box e allenarti ma ragazzi allora non vi resta che venire a milano throwdown a provare questa adrenalina cosa che poi sappiamo benissimo che in gara si trovano delle energie delle skill che non sapevi neanche di avere vero quindi venite a provare venite a partecipare eh che dire gabriele secondo me abbiamo dato tutte le informazioni di milano throwdown vi ricordo la finale quindi live a il 6 aprile a milano malpensa fiere gabriele esatto dicevo per tutto e per tutte le informazioni possono comunque scriverci sia in direct message su milano throwdown sulla pagina instagram o sulla mail bene ragazzi ci vediamo il 6 aprile a milano malpense fiere ciao gabriele ciao 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 Grazie a tutti